Cosa c'è ancora di mondo piccolo? In qua c'è un casino totale, un amalgamo, un mescolamento di persone. Configurare un mondo che è quasi perduto. Da quando eravamo bambini noi, cioè ragazzi diciamo. Il progresso non lo posso più fare. Come si fa a fare progresso? 90 anni. Tutto si riconduce al far vivere la nostra anima, che è in un mondo piccolo. Il mondo piccolo non è facile spiegarlo. Tutto si riconduce al far vivere la nostra anima, che è in un mondo piccolo. Tutto si riconduce al far vivere la nostra anima, che è in un mondo piccolo. Tutto si riconduce al far vivere la nostra anima, che è in un mondo piccolo.